devo dire che questo 2024 nasce proprio sotto una buona stella e lo dico un po sarcasticamente che cosa è successo che poco fa esattamente poche ore fa nel momento in cui sto registrando diverse testate di settore hanno titolato la notizia che gli account google sono stati violati con un nuovo tipo di esploat e questo esploat oltre ad essere estremamente difficile da individuare come vedremo a breve ha anche un ulteriore fattore di rischio derivante dal fatto che non basta cambiare la password e non basta nemmeno cambiare l'indirizzo ip per sfuggire alla sua morsa ma per fortuna come sempre c'è sempre una soluzione e quindi andiamo a vedere insieme innanzitutto di che cosa si tratta ma soprattutto come possiamo porvi rimedio ti senti pronto iniziamo ed eccoci qua la notizia di cui ti voglio parlare è questa account google a rischio l'esploat multi login consente la persistenza anche dopo il cambio password innanzitutto che cos'è un esploat un esploat è un modo per sfruttare una vulnerabilità di un qualsiasi programma quindi quello che è successo è stato che è stata individuata questa vulnerabilità sugli account di google che viene sfruttata ma sfruttata per cosa per effettuare un cosiddetto attacco multi login come funziona vengono rubati i nostri cookies i cookies sono delle informazioni che vengono scambiate tra il nostro computer ed un qualunque server nel momento in cui facciamo una qualsiasi operazione come ad esempio il login e quindi ci autentichiamo su google vengono sottratte queste informazioni che vengono copiate e riutilizzate all'infinito non importa che noi andiamo a cambiare il nostro indirizzo ip e soprattutto che noi andiamo successivamente nemmeno a cambiare la nostra password e tuttavia scendiamo un po più in basso ci accorgiamo di un qualcosa di molto importante ovvero che questo attacco viene perpetrato per mezzo di un malware che si chiama luma infostealer quello che leggiamo è che l'esploit è stato integrato in questo malware il 14 novembre ma quello che più importa è che la sessione rimane valida anche quando viene modificata la password dell'account e che rappresenta un vantaggio unico per aggirare le tipiche misure di sicurezza ha affermato nel rapporto prisma l'autore dell'esploit ebbene sì perché quello che è successo è che l'autore dell'esploit rendendosi conto del danno fatto si è messo a disposizione per collaborare al fine di trovare una soluzione da questo punto andiamo a prendere ulteriori informazioni su questo malware che si chiama appunto luma ed è arrivato attualmente alla versione 4.0 scopriamo che quest'ultima versione è stata creata orientativamente verso novembre o fine novembre del 2023 e che si tratta di un malware estremamente sofisticato che addirittura si avvale di calcoli trigonometrici per eludere l'individuazione da parte degli anti malware a questo punto è lecito chiedersi come si contragga questo malware per evitare di incorrere in questi enormi problemi ebbene la risposta è molto semplice questo malware viene diffuso solo ed esclusivamente in un unico modo cioè attraverso software non originali oppure contraffatti una prima risposta quindi può essere quella di scaricare i propri software solo ed esclusivamente da siti affidabili che poi detto tra noi è il motivo per cui la community ha deciso di creare il cloud sul sito gentiluomo digitale onde evitare di mandarti in giro ovunque a scaricare i software che recensiamo ok ma a questo punto nel momento in cui io scarico un software come faccio a sincerarmi della sua affidabilità prima di installarlo dato che gli antivirus e gli anti malware sono un po carenti come abbiamo visto in questo senso devo dire che la risposta che ho trovato su altre riviste di settore come questa times now non mi ha assolutamente soddisfatto infatti i consigli che porta per gli utenti di google sono abbastanza generici e secondo me poco adatti a questo caso quello che ci viene raccomandato è che ogni nostro account google abbia una password forte ed unica di abilitare l'autenticazione a due fattori di essere estremamente prudenti nel momento in cui si aprono degli allegati oppure si clicca su dei link provenienti da mittenti sconosciuti e di aggiornare il proprio software incluso il browser web e il sistema operativo con una certa regolarità ebbene questi siano tutti sicuramente dei consigli di buonsenso validi per qualsiasi situazione di rischio per qualsiasi malware non sono rimasto affatto soddisfatto così ho continuato la mia ricerca sui siti di settore inglese visto che nessun sito italiano riportava qualcosa di concludente in questo senso e una parte della risposta l'ho trovata qui sul sito pcrisc che dopo averci informato che si tratta di un trojan che ha il livello di pericolosità massimo quattro barrette rosse sono appunto il massimo livello di rischio per una infezione virale ci dà un unico consiglio che spoiler non riguarda la rimozione di lumma bensì di utilizzare con attenzione come vedremo tra un attimo virus total per analizzare tutti quanti i nostri allegati e i programmi che andiamo a scaricare prima di installarli ed allora anche se te l'ho già mostrato in passato andiamo a rivedere come utilizzare correttamente virus total per capire se un programma rappresenta una minaccia o meno tanto per cominciare apriamo il sito www.virustotal.com lo vedi qui in alto l'indirizzo non serve scrivere il resto basta virustotal.com ti si aprirà questa pagina qui nel momento tuttavia in cui vai a scegliere un file cliccando sul pulsante choose file ed andando magari a mettere un file che io so essere sgradito a virus total ma che rappresenta un classico falso positivo nel momento in cui lo apriamo vediamo che la bellezza di 38 antivirus lo rilevano come se fosse una minaccia ma come faccio a dire che questo è un falso positivo per capirlo andiamo a fare un paragone proprio con la schermata di virus total che ci veniva portata in termini esemplificativi dal sito che abbiamo visto precedentemente pc risk se guardiamo questa schermata ci accorgiamo che virus total qui in alto va a segnare quelle che sono le potenziali pericolosità individuate dagli antivirus per il file che abbiamo analizzato nel caso del file che hanno analizzato loro vediamo che questo file come potenziale attività rischiosa va a fare un controllo degli adattatori di rete e questo non va considerato come un comportamento virale perché ci sono una serie di programmi leciti che fanno questa operazione che tuttavia mette in allarme virus total la seconda cosa invece è molto importante c'è un cwe a carico di questo file i cwe sono dei bollettini di rischi pericolosità e minacce varie se infatti andremo a fare una ricerca su google digitando esattamente cwe-2016-0101 ci accorgeremo che è ufficiale che questo file contiene una minaccia la voce successiva tuttavia ci deve mettere massimamente in allarme si tratta di un exploit abbiamo visto proprio poco fa nel corso di questo video che cosa sono gli exploit e quindi sappiamo che è pericoloso long slips invece non significa niente perché significa semplicemente che può rimanere silente a lungo nella memoria del nostro computer mentre invece malware significa che appunto si tratta di un malware e così via però attenzione torniamo un attimo al nostro file che cosa è stato individuato invece in questo caso si tratta di un file zippato e questo di per sé ovviamente non rappresenta una minaccia contiene dei moduli di runtime cioè dei moduli preconfezionati per windows che servono a far funzionare i programmi che va alla ricerca di ambienti di debug per la correzione di errori dei programmi che anche questo file può rimanere a lungo silente in memoria che effettua un accesso diretto al clock della cpu e che si tratta di un file in formato portable ovvero che non richiede installazione quindi è vero che ci sono una serie di allarmi ma in questo caso quello che ci sta dicendo virus total è semplicemente che si tratta di un file che potrebbe contenere degli elementi di rischio e se vuoi sapere esattamente qual è poi questo elemento di rischio ti dico che si tratta di un programma che serve a recuperare le password di posta elettronica cosa che fa diventare matti tutti quanti gli antivirus ma quindi in soldoni come ci proteggiamo da questa minaccia in primo luogo scarichiamo solamente software da siti affidabili in secondo luogo andiamo a verificare tutti quanti i software con virus total ma soprattutto utilizzando molto cervello in terzo luogo come c'è stato raccomandato utilizziamo password complesse e magari possibilmente anche l'autenticazione a due fattori laddove non una paschi d'avendoti rubato già fin troppo tempo ma ci tenevo a farti capire per bene la minaccia non mi resta che concludere questo video con il ringraziamento che è sempre riservato a te che mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e sei arrivato fino in fondo cosa per cui oggi ti faccio particolarmente i complimenti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima